Ciao ragazzi siamo qui il nuovo video oggi ragazzi vi farò vedere il mio zaino minimo ragazzi questo è il mio zaino diciamo minimo all'uguale della cuffia per ascoltare musica oppure i video poi il braccio che sto usando per diciamo mantenere la fotocamera poi ragazzi caricatore di cellulare il cellulare che è quello che sto registrando chiavetta per il computer il computer è portati è un po vecchio però è ottimo schermo grande è ottimo è ottimo ragazzi allora iscrivetevi al canale e mettete la campanella se non volete perdere nessun altro video e ci vediamo in un prossimo video video molto corto ci vediamo in un prossimo video ciao ciao